di testo e se volete potete guardarla dal telefono la live ok in che senso? vediamo allora dal telefono potete accedere su twitch fare un profilo se non avete un profilo di twitch followervi al canale e guardarlo e allora potete guardarlo dal telefono così mi fate un aspect se è su twitch su twitch, si non sto guardando dal computer ok sta andando perché vi sentono e siamo in live stasera siamo con Riccardo e Andrea e forse arriverà Zama nel loro server partirà un sondaggio poi partirà un sondaggio con griffiamo il loro server o no dipende da quanto è bello se è abbastanza bello non lo griffiamo se invece è brutto lo griffiamo non è un problema ragazzi lo rifate da zero per me non è un problema ragazzi ti ricordo che sono comunque il tuo master no ok salutiamo salutate Riccardo saluta ciao 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 muovi la spada fai qualcosa salta salta ok salta tu e questa è Andrea shift si orgia ok va bene cazzo è tanti permanenti di windows ok questa è la loro casa ma è notte vaffanculo ma voglio dormire e allora voglio dormire brutti animali che bello dormire tutti e tre attaccati vero sì che cosa gay tanto succederà anche questo questo sabato allora non me ne prega un cazzo allora partiamo ci sono un po' di mob a parte che ci sono allora come possiamo vedere hanno un enorme casa con un enorme tetto non voglio sapere perché che il tetto è così ecco bravo ma come cazzo risale il stronzo è un pozzo nulla di speciale solo un pozzo in onore del grande zamazu va bene io penso che sia un cattivo di dragon ball non ne sono sicuro non nudiatemi allora di qua non c'è un cazzo vediamo come ok bene quando ho messo i fiorillini gay ciao raki benvenuti in live qui questa è la loro casa io ho trovato delle pecore adesso ho messo questa pecore perché abbiamo anche il letto per zama oppure potreste portarvelo a qua ci sono degli zombie perché non avete messo le torce lì inutile proseguire ok ricky dobbiamo aprire la casa perché se no non ci siamo in quattro poi ve la costruisco io una casa inutile proseguire ah no ma c'è anche rete poi dopo siete gay forse viene l'ele allora ho c'è che muoio ho c'è che muoio mi dissocio mi dissocio dalla frase che hanno voluto nanni 47 benvenuti in live inutile proseguire siete gay allora io mi dissocio sul gay inutile proseguire perché inutile proseguire perché siamo gay perché non c'è un cazzo l'ho scritto apposta fede hai ragione e qua c'è la loro è la loro il loro buco allora facciamo esplodere tutto allora potremmo farlo anche se volete allora quindi è tutto qui il server è tutto qui ma va cioè questa è semplicemente una piccola parte ok allora sapete ho deciso di non griffarvi per ora spacco inizierò a fare la mia miniera abbiamo anche il letto per Zama ok io inizio a farvi una piccola vabbè la smettiamo di morire in live per favore ragazzi non lo so io merda no quello lo puoi dire le parolacce le bestegne le potete dire però dovete stare un po' guardalo covid va benissimo però non devi augurarlo e non devi parlarne puoi tossire e dire covid sì quello lo puoi fare ma non puoi andare oltre diciamo quando hai preso col piccone di ferro ah era già pronto perché mi sto preparando ma sei un coglione ma lascia lì il piccone di ferro ci serve solo per i minerali più grezzi sì lo so lo so lo so sì però dovevo fare dei picconi devo fare ho dovuto fare quattro picconi ora ve lo metto no me lo tengo perché sto andando a cercare il ferro e gli altri materiali ragazzi ho già controllato lì non c'è un cazzo sì lo so col ferro puoi prendere anche col quello di pietra lo so infatti ho fatto ora quelli di pietra ho farmato cobblestone infatti ho trovato ho trovato del ho trovato del carbone tanto carbone ma tantissimo io ho messo il mi ospitano e mi fanno lavorare nella cesta del cibo abbiamo le cani da zucchero le abbiamo 25 va bene sì l'ho visto benissimo benissimo li vedo li vedo organizzati i ragazzi li vedo organizzati pro gay non parlate dell'omosessualità se non siete se non fate battute allora dico fede grazie no grazie grazie tanto ok abbiamo abbiamo ok ho vi lascio 64 torce io vado con 24 vabbè lo metto qua proprio abusivo abusivo io non so che cazzo fare guarda io sto andando allora io vi dico io sto scavando vada a prendere del cibo ammazza un po' di persone oppure facciamo la farm io e te sì fate la farm allora ragazzi io essenzialmente in questo momento sto scavando arrivo alla bedrock poi salgo di ho trovato il ferro lì chiede fede non scavare sotto i tuoi piedi che finisce male ma va no esatto ragazzi non sono 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 uno streamer di twitch non sono stupido cosa vuol dire che non perché sei uno streamer di twitch volevo fare una battuta per dire non sono stupido capisco perché di solito dicono gli streamer dei twitch sono stupidi ho trovato 14 di ferro va benissimo come si può dire che il masseo è stupido i streamer di twitch sono stupidi il masseo come osi perché il masseo è proprio stupido va allora lo sai che va bene nel video nel video su youtube che mi hanno fatto c'era il masseo cosa sì perché hanno messo una clip del masseo se sei l'ho vista ma fra l'altro un disco con il riso con il fra l'altro fede i video te li ha editato tafuro o no sì sì me li ha editato tafuro adesso devo andare a bergamot lo so lo so lui ha tipo lui ha tipo 650 follower su twitch sì su twitch io ne ho 235 cosa hai fatto a gara no lui ha iniziato gli strema già da più di un anno io stremo da letteralmente due mesi due mesi ragazzi I need help dove cazzo sei ah 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 giusto non posso dirlo ah 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 mi dissocio mi dissocio che cazzo stai facendo cioè ok e vuoi venire va a vedere giù cosa c'è oh un pollo ora non più guarda se mi davano la mano giù sono più che contento dipende cosa c'è giù dei giù ci sono un po' di oggetti minerali tuttavia c'è un po' di molto di gay ah giù sono posto di gay che palle ma che palle ma di qualcos'altro vero ma guarda che persona ignobile e poco acculturata no è scema è diverso è vero è stupido basta è stupido come una pietra e basta comunque se volete venire giù a guardare ho fatto una piccola miniera ma nulla di che anche noi siamo giù aia aia scheletri di merda aia io sono molto più raffinato io sono molto più raffinato ragazzi perché voi se voi guardaste la mia live sapete già che cosa sto facendo meno non la state guardando quindi non potete non posso fare ma fa la farm e fa la tua come io ho già 14 di ferro vuoi fare scusa vanno fare il maiale e i polli i polli per le uova e il pollo e le piume e i maiali per il cuoio e la carne ma io lo sto ammazzando le mucche no fra non ammazzare ma perché ammazzi le mucche il cuoio vanno farci ma no l'armatura in cuoio non serve a un cazzo fai direttamente quella in ferro lì ti vuoi sapere un segreto sai che se tu fai la farm di bestiame con le mucche hai il cuoio oh non solo hai il cuoio infinito e cibo infinito sentite non rompetemi il cazzo fai tu la farm no fai tu la farm eh no hai capito il cibo ah ho trovato il carbone ma fai tu la farm se vuoi ti do il cuoio però non penso che tu ci faccia una farm con le mucche morte ah fede qui il come cazzo si chiama ogni riferimento agli animali morti cioè va bene no no non vanno bene vabbè se c'entrano le mucche sono andate in un posto migliore se il gioco aspetta se tu dici sto ammazzando le mucche siamo su minecraft va benissimo se dico sono uscito di casa e sto ammazzando delle mucche innocenti no quello no vabbè cioè siamo su minecraft mi sembra ovvio che sto ammazzando le mucche probabilmente non vado a farlo nella realtà o no oppure basta che guardano che noi siamo su minecraft basta che voi siete su minecraft non dite vabbè sono fuori casa e sto uccidendo una mucca no quello no 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 ah l'hai detto vabbè sentite le mucche sono andate in un posto migliore nel dubbio sono andate a conoscere Dio sono andate a chiedere le autografie Gesù che comunque sia il loro fratello no dai ma lo può dire siamo su twitch effettivamente allora comunque prima di andare ad attirare il nostro poede direi di fare direttamente la recensione si sta venendo buio eh infatti cazzo stai pensando allora ah non ti preoccupare la gomma degli stick no invece preoccupati eh infatti cosa no no non ti non ti preoccupare è una cosa più bella per la per la mia per la mia miniera io continuo io continuo a scavare vabbè sarà vostra perché voi siete degli approfittatori sociali però adesso se siamo su twitch cioè devi dirmi cosa e cosa non posso dire allora cioè ad esempio no insulti xenofobi no insulti razzisti ok no insulti su 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 sull'omosessualità le bestemmie si le parolacce si gli insulti tipo sei uno scemo un cretino va bene se volete mettere della musica non deve esserci il copyright e basta ho trovato il lapislazzolo fantastico oh la madonna eh è la tua in fondo e voi non sapete giocare ma non è che non sappiamo giocare che io preferisco fare altro è arrivato ho trovato anche il ferro oddio ho trovato anche il ferro noi giochiamo meglio di te perché noi abusiamo di te hai capito noi giochiamo meglio perché noi non giochiamo affatto noi giochiamo meglio perché facciamo giocare te ecco perché ok ho 21 di ferro fede me ne dai uno di ferro un lingotto soltanto uno va bene vieni a prendertelo dobbiamo trovare cerca di trovare la pietra rossa se riesci si chiama redstone tradotto pietra rossa tu chiami il ferro ferro iron ferro e allora lo scassare redstone si chiama redstone e ferro si chiama iron però tu lo chiami ferro io lo chiamo red io lo chiamo pietra rossa capito i giovani d'oggi è veramente importante non rompete il cazzo non lo so io sto andando giù sto scavando si fede io ti sto seguendo da mezz'ora mi daresti il lingotto eh devi andare sempre dritto caro ah eccoti dritto sono dietro di te da mezz'ora aspetta che te li do tutti orca troia raga andiamo a dormire così il giorno ma figa ma prendile ma sei orca troia ti sto ti devi allontanare finchè stai vicino ti credo che le ripigli tu ok aspetta un attimo che ti do anche questi o per essere quella parola che non posso dire vabbè fuoriato lo puoi dire sì sono fattuto non potevo dirlo ci mettiamola così ok vai aspetta ho anche il carbone prendi 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 anche il carbone eh ma lo scusami ma scusa ma dammelo dammelo stacchi interi ma ti prego no è più divertente così io lo sai certo perché mi fai perdere te sì infatti allora madonna non si capisce niente perché abbiamo due pipite di ferro è per le usate per fare le lampade ah ho trovato anche altro lapislazzolo che culo non solo per cose magiche che noi non possiamo ancora fare ne abbiamo già 54 di lapislazoli ho trovato la headstone sì ma chiudi la porta ok i materiali preziosi li mettiamo qua sopra la fornace chiaro non dovremmo ampliarle questa casa non abbiamo neanche un pavimento ma no non ti preoccupare la costruisco io la casa bella per voi è quella che hai fatto nell'altro video proprio mi chiami veramente no no quella non ti preoccupare quello doveva essere un accampamento non una casa doveva essere poi si è trasformato in una casa chiudi cazzo ok si chiama mostro perché siamo in minecraft io apro vieni che ah non posso dirlo che palle vieni che ah non posso dirlo gastrofobia ha qualcosa in mano non capisco cosa qualcosa nel culo te lo dico io ooooh va un culo a mano che cosa ti metti in mezzo anche tu sento io sono di livello 10 eh non si muore non morirò infatti il cheat segnata la fede cosa non morirò mai più no no non va bene mai più ah sono arrivato alla bedroom fantastico quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 fantastico fantastico io continuerò a andare dritto per di qui ok allora dobbiamo no no merda 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 non ho un'arma porca troia allora sei sceso sei sceso per i carni ok qui c'è la c'è una ho trovato la la fantastica e sexissima è un secondo hai sentito ma come cazzo si faceva sta merda oh eccolo vabbè però ho fatto esplodere anche un ragno ho trovato ho preso l'occhio del ragno e yes oh lo scudo lo voglio anche io lo scudo è fatto dammi lingotti di ferro com'è che si faceva eh appunto ciao ragazzi come l'hai appena fatto vi lascio un altro regalo qui nel oh pietra rossa bravo allora si fa praticamente con i lati di destra e sinistro due due uno in basso uno in mezzo e uno ragazzi di fianco c'è un libro un libro c'è un libro c'è un creeper raga cosa c'è è un creeper c'era un creeper sulla porta cazzo stati lì vaffanculo eh bravo fede lasciamolo addosso complimenti ma perché dobbiamo lasciare la fara ricky nooo la mia ok vabbè non ho salvato la la mia fiorto questo è il problema migliore ho ho salvato hai distrutto una parete di casa e l'orto complimenti io me l'hai lanciato addosso non l'ho lanciato addosso si è girato solamente il rinculo me l'ha fatto sbalzare contro pesta di cazzo nooo rifatto l'orto nooo va bello figa vabbè fa niente va non dico altro non ti preoccupare l'importante è che la mia miniera sia salva perché è la mia miniera che vi che vi salverà allora noi ci spaviamo col ferro non con il grano questo coltivante io faccio le mappe a tutti quanti va bene non volete dormire si è vero se volete va bene se vi faccio delle mappe si guarda fanculo pure il vetro mi ha rotto sto coglione io eh chi Gesù si è stato Gesù andate a dormire chi manca oh dio ma allora facciamo queste cose allora devo fare tre bussole allora oh filo di troia cazzo c'era un ragno cioè c'era uno scheletro sopra un ragno eh gg per lui no 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 ti prego ok non devi spammare il colpo non siamo nella lo so come si gioca figa ok va bene non devi spammare il colpo ma l'avete cotto sto cazzo di ferro si ok prendo due pezzi ma cazzo dei cazzo di stick ok allora senti dov'è qua vi metto un po' di cose che spero che vi servano eh raga venite qua che vi do la mappa oh si la mappa fantastico una per te vai nice fantastico questa è una buonissima mappa soprattutto perché tutti i laghi assieme sembrano che formino un pene oh ma perché a me capitano sempre fighe creeper davanti tu perché tu non hai mai visto il primissimo video del canale dove io faccio ah no perché è su youtube oh oddio perfetto fede vieni qua abbiamo una cavia abbiamo una cavia per che cosa è per vedere se il creeper funziona io non voglio sapere ma dal momento che lui sta ridendo e ha funzionato il creeper no cioè si ha funzionato peccato che mi esploso vicino va bene poi quando riuscite mi portate un po' di cebo ragazzi ah mi non era la tua miniera che ci sfamava fede si ma chi sfama il minatore eh appunto quindi adesso ti serve il nostro aiuto eh ragazzi io sono arrivato fino alla bedrock in pochi secondi e ho creato una miniera con casse e manca solo un letto ma guarda anch'io se scavo dritto per dritto ci arrivo alla bedrock ah 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 continui a premere il tasto sinistro difficilissimo io sto portando il primo pollo ok va bene non è una buona idea scavare per di lì te li ho lasciati nella come si chiama nella cassa fede quando risali te li trovi fantastico grazie io continuo a scavare per il diamante tanto sono già a livello dovrebbe essere a livello 12 ma Lele alla fine che ha detto ah non lo so potete chiamarlo per favore perché a me non ho più detto un cazzo il primo pollo l'abbiamo messo in saccoccia il primo pollo l'abbiamo messo in saccoccia ma scusa ma su 21 di ferro come mai ce n'erano rimasti 9 che cazzo avete fatto oh Lele noi siamo in live tre bussole per fare le mappe oh cristo dio eh già oh come mai digli almeno di guardarla ah Fede mi dice almeno di guardarla digli almeno di guardarla ok tranquillo mi ha già detto tutto Fede piccolo bastardo eh lo so lo so stanno parlando di Dungeons & Dragons non so se lo vedrete mai su questo canale ma spero di sì oh ok eh immaginavo va Tachanka che nome bellissimo si è chiamato Bacchan Tachanka che cazzo ne so ma ti sembro uno che lo sappia su questo in me lo ti basta io una volta mi sono ah ho trovato il diamante e il ferro fantastico come hai trovato il diamante un forgiato che ha 19 di intelligenza si ho trovato sia il ferro sia il diamante ottimo fantastico oh guarda quanto quello lo so grazie wow quanti diamanti ho trovato figata va bene ho capito sei forte figo e bello contento ho otto diamanti se vi interessa Magra abbiamo già il pollame va bene dai eh no siamo su Magra abbiamo già sei sette polli va bene dai ci sentiamo digli di di ostale la live orco aspettate raga eccomi eh stavo ho trovato i diamanti carolichi eh ho visto la cimento anche la ho trovato anche la redstone tanta redstone abbiamo bisogno di tanto ferro allora io ho trovato altri otto di ferro ok ora devo fare dove cazzo faccio il bestiano le mucche le mucche devo andare a prendere la legna perché non ho abbastanza decenzione e comunque sono grandi sono grassi ce l'ho la legna fra dove cazzo stai andando col diamante volete già fare la con un bocco facciamo col diamante facciamo li metti nella cesta e nessuno li tocca facciamo il piccone facciamo il piccone così che spacchiamo l'ossidiana e creiamo la oh si creiamo il portale del nether quando abbiamo neanche l'armatura di foglio no ci andiamo con l'armatura di ferro che costruirò io fra dieci minuti dovete dovete aggiornare il server se no si lo so ah il problema è che per aggiornarlo devo cambiare codice di nuovo si ma lo puoi fare mentre siamo siamo dentro cioè mentre siamo dentro lo puoi fare ma come allora che non ho capito ma non l'avete già provato ragazzi si però a me fa cambiare codice fede si ma voi continuate a giocare mentre siete dentro tu vai sul sito e dici aggiorna dove cazzo aspetta che mi disconnetto un attimo perché sono sul sito eh tu devi cercare il tuo server e fai aggiorna dove cazzo è l'aggiorna server chiuso allora riempiamo lei oddio entriamo la porta non è uscita eh grazie aspettate riapri aspettate un attimo intanto metto metto Gesù e e chiacchieriamo con di fianco Gesù ragazzi ma che cazzo tatataratata tatataratata tatataratataratataratataratataratataratataratataratataratataratari hai riattivato il server caro ho due messaggi da twitch che è che mi ha scritto chi è quel lurido bagaccione mi erano diventati gustare il like aspettate un secondo ok 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 carissimo hai aggiornato? allora riparte la musica tatataratataratatataratataratatarata usare il server ci giochiamo di più come di chi aspetta mi dice proprio connesso è capito io voglio riconnettermi è a me dici che c'è uno dentro però nel server come possibile connessione per dice ma e quindi nessuno di noi è dentro no nessuno però qualcuno lui mi dice che c'è qualcuno dentro questa cosa mi puzza o aggiornare fede avanti c'è proprio impossibile connesso al server aggiorno ma scusa marichi non è cambiato mica l'indirizzo non ha aggiornato c'è scritto che a me c'è scritto che non hai aggiornato la sessione ho aspettato un secondo ciao lele storm benvenuti in live siamo bloccati qui perché non riccardo sta cercando di aggiornare i server sono quattro bei ragazzi ma zama zama ha detto che finisce una chiamata è importante poi dovrebbe raggiungerci dai quello simpatico del gruppo almeno ok ragazzi una buona e una cattiva notizia la buona è che ho scoperto come fare la cattiva è che dobbiamo aspettare 8 minuti non è un problema ragazzi abbiamo 8 minuti d'attesa intanto sia zana che riccardo possono connettere si alla live guarda e mettere al livello 1 di a livello 1 di di audio così non possono non mi sentono doppio guardare la live così mi lasciano uno speck e hashtag vive il forgiato hashtag tua madre devemo nostro scherzando caro sei stato comunque però adottato fede ma come cazzo si fa come cazzo si fa si aspetta 8 minuti caro ma chi è che ha parlato no è da lasciare alex alexa alexa play despacito this is this is sad alexa play despacito allora ragazzi lo sapete che uno dei miei prossimi acquisti sarà alexa a 20 euro no mi compro anche quella comunque e la metto come intro dei video no come intro di video metto dammi tutto dammi tucsita dammi tucsita ti giuro che appena ti vedo ti sparo in testa comunque fede il costrutto non lo posso evocare una volta per uno solo una volta poi devo farne uno nuovo a ok va bene nerfato va bene va bene non l'avevo capito io perché sapete che l'artificer a 10 trilioni di di correzioni e altre cose cazzo non si può vivere così non si può mica a me fare impazzire sta troppo di twitch ma io non ho l'app di twitch puoi entrare da browser essere dato da browser e allora su vuole che mi devo per forza a non lo so allora quanto tempo rimane riccardo mi dica circa quattro minuti allora va benissimo devo metterci devo loggarmi così faccio loggarmi su browser e se hai grazie riccardo per la tua grazie riccardo però non superi la mia ragazza mi dispiace allora ma è stato andrea zana e vabbè fa niente stessa roba comunque lele poi hai scelto le due cose speciali vabbè comunque per connetterti brutto bagascione brutto bagascione per connetterti devi connetterti con l'account oppure creare uno nuovo mi son fatto male all'unghia e welcome to qui e si qui c'è cosa non posso collegarmi da computer va bene però metti l'audio al a a 1 potresti sentire del riverbero ma basta che alzi i nostri volumi e isolto a quanto manca riccardo perché non posso proprio non sono un countdown aspetta file countdown ok allora il server è tornato online ok va bene torniamo torniamo ragazzi torniamo torniamo aspettate ok no 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 in teoria ok aspettate aspettate cosa vi dice se provate a entrare aspetta un attimo devo aggiornare io provo a entrare mi dicevi quello che non posso c'è non c'è impossibile con la terza server eh cazzo ho capito disconnessione del server non riuscita sì sì ho capito capito datemi un attimo allora ok so già come fare altri otto minuti no no dai non molto meno ok torna gesù e allora ragazzi al mio 3 contiamo la canzone di puffi i puffi sanno che il tesoro c'è con le donazioni e il sub se avete è il sub se avete amazon prime la sub è gratuita e io ci guadagno soldini ok questa cosa dove dovrà bruciare all'inferno dopo questo non è vero io pago le tasse in america è svasore fiscale svasore fiscale svasore lo svarione degli anelli di cipolla lele sei in live devo dirti una cosa ok signori 40 secondi 39 38 oh no aspettate ma ah no vaffanculo no niente ok ok riccardo ti devo uccidere con una matita se aspetti 30 secondi no 29 28 27 26 19 18 17 16 15 è come quando noi come quella serata di valorant che ogni volta ci resettava quando abbiamo preso la la io ho iniziato a stremmare valorant in pratica a quanto mi manca valorant mi manca tantissimo valorant vabbè ok allora uno tac due tac tre tac quattro tac fatto perfetto carica ole signori siamo di nuovo online siamo di nuovo online dai non c'è voluto ma che chiede qual è il server di fede e scrivi che glielo sto mandando c'è fra poco lo mando su discord ok eccolo ma voi siete entrati no sto mandando ecco perché a me non fa entrare eh sto mandando il codice fede ormai quel server lo devi cancellare no lo devo cancellare lo devo modificare no puoi puoi anche rimuoverlo sì vabbè modificalo rimuovi dopo quel cazzo che vuoi lo modifica non è che cambia scusa un cazzo ehm il nome è lo stesso vai vai aggiungiamo zama con l'audio si adesso lo faccio io fatto adesso dovrei ho aggiornato la sessione oh eccomi 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 ah sono entrato se sono entrato sono sono bravissimo adesso adesso siamo di nuovo in live ragazzi in live in lives in live ok perfetto e sono dentro bene gli dici che gli dà un server vuoto come server vuoto ma che cazzo sta dicendo perchè siete dei maiali minchia aspetta ma che ho bevuto un sorriso di coca oh eccomi eh ci sono ma perchè non non mi fai aspetta ma perchè non non mi fa accedere a lui aspetta no no ma raga mi ha fatto spercare tutti i materiali ma io stavo ero nell'angra quando la crafting a mettere il materiale per creare le recensioni e mi sono spariti tutti allora ma porca la boia non mi fa non me lo fa aggiungere non so perché dice che è dentro è dentro però la chiamata no allora ragazzi è dentro però è una situazione un po' di marda per me è buio e non sapevo dove cazzo sia adesso allora un attimo ragazzi ci penso io aggiungilo aggiungilo la chiamata eh non me lo fa fare perchè me lo segna che non c'è non hai gli auricolari normali dice che senso adesso voi leggete un attimo che io continuo qui aspetta fede ma aggiungilo la chiamata e non me lo fa fare non lo trova come non lo trova non me lo trova non me lo trova che cioè può parlare anche senza cuffio eh vabbè sti cazzo ho trovato l'oro vede vuoi o vuoi parlare anche poi par eccolo qua l'oro voglio cambiare il mio sfondo che mi fa schifo eccolo qua l'oro ho trovato ferro avete trovato un modo per farlo parlare zama mi sente ole alleluia ah sei troppo alto parla ora no io lo sento da dio parla zama si parla ancora qualcuno ok ok va bene ok ora sei perfetto benvenuti in live zama lo sai che sei in live su twitch sì sì me l'hanno detto io sono appena esploso se vi interessa ottimo sapevate che vicino allo spawn c'è uno di quei di quei portali del land rovinati no? cioè quelli del nether nuovi cosa no ma che cazzo di server sei? credo che stiamo parlando dello stesso server spero ehm io c'è ragazzi siamo connessi nello stesso server te lo dico io sto venendo a pigliare ma ok io sono spawnati in un punto a caso della mappa non è che so qualcosa è proprio dove c'è un punto preciso dove spawni è esatto cioè io intorno alla chat dalla chat ti dicono ciao zama ok ma c'è un cazzo di enderman qui ah basta che non lo guardi in faccia fermo fermo cazzo fermo guarda quale rovina del portale del nether ma allora sto fermo zama zama torno indietro cazzo eh che palle che siete torno indietro eh sono morto eh vabbè dai respawn ahia raga non sono morto bella ahia raga 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 sono un po' della merda sto arrivando io della mia miniera siete veramente dei creeper la madonna di gesù cristo zama eh si è andrea facciamo prima fate prima ho sentito le esplosioni che cazzo è successo ma no non ti preoccupare tu ti tornerò male più o meno abbiamo un pozzo vai vai allora abbiamo un pozzo no veramente vai avanti vai avanti vai avanti vai lì c'è il faro lì c'è il faro vai eh vabbè ma così mi è eccito dai qualcuno è esploso più volte io tranquillo bene avete la farm benissimo avete un sito di scavi? si sto pensando fede bene benissimo beh perché loro non stanno fare un cazzo e quindi ci sono andate guarda che non c'è il fuoco amico eh come non c'è il fuoco amico c'è il fuoco amico come no come si che guarda che non c'è il fuoco amico c'è il fuoco amico cazzo scusa posso colpirti? certo che puoi colpirmi guarda beh raga io non ho più cibo non ho vita vado a morire vedi non c'è il fuoco amico se colpisci l'altro c'è il fuoco amico cristo dio ragazzi fra ma ci sei che ci fai no che non c'hai io ti faccio danno fede non possiamo bestemmiare si si le bestemmie si le parolacce le bestemmie si le insulti razziali no ah ok peccato ha senso zama lele lele la prossima partita di dnd c'è ottimo si ma raga ma che palle che piove cioè il giorno e piove ma figa bella io vado a soffocarmi ma no ma dai ragazzi ho tre con shot di vita un cuore e mezzo cioè cosa faccio ancora vivo e vieni dentro abbiamo il cibo ma non rompete le palle è più facile fare così è più facile morire si esatto to dai 1 2 3 3 3 3 oh 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 cosa mi mercato se stai negata zj ma no sono responsato sono dietro di te ok ora perché qui c'è perché qua c'è un one zombie affogato qua un piccolo di zombie affogato fede attento quelli sono stronzi ma si ma io sono superarmato chi è che ho avuto la genial idea di aprire cazzo uh raga patata bravo vi salvo io vi salvo io vi sto salvando io grazie di nulla dov'è dov'è che lo saluto ma perché tu non hai una skin perché semplicemente se vuoi te la creo io la skin si guarda che si fanno gratis le skin ma io me le creo io le creo dal telefono grazie fede poi poi ti baci abbracci pago con un pompino automatico master power benvenuti in live sono signor boh e ciao anche tu benvenuti in live ragazzi spero che vi divertirete siamo del sabato la scuola mi tocca perché non vado da me c'è il sciopero ma andate a cagare come che stare questa generale dei docenti quinto anno e quinto anno i docenti ancora che fanno show per ma sicuramente perché da noi è un po un casino perché la preside è una deficiente come in ogni scuola allora ragazzi a me mi sa che sono full armor bella fede io sono ancora allo sbaraglio invece a non ti preoccupare perché non mi hai detto e io sono fulano di ferro ora mi sa a grazie c'è se proprio un ingordo del cacchio sì che non sono ti ospitiamo nel nostro server ma pure ci rubi dai non sono riuscito a farmi i pantaloni vi lascio andres posta il letto di fede fuori vicino all'otto è scoppiata una guerra nucleare fuori sì caro mio griffa tutto no sono signor boh griffiamo alla fine se il server non ci piace lo griffiamo alla fine si vuoto zama mi dici dove era quel portale del neder parliamo così chiaro chi griffa al server è quella parola che non posso dire se tu dici non si può dire neanche quello caro dove sei g a y no peccato fede io io sto raccogliendo legna anch'io io ma si è già autogrifato il server master power dai calmiamoci loro sono miei amici non non bullizziamo mi potete dire dove cacchio è il buonismo è un reato tornando sto tornando no il bullismo terapeutico non lo è bullismo terapeutico non sono tutti fumi ste robe no raga non date stranidea riccardo che poi sto qua scatena una strage bullismo terapeutico che sarei questo mi reputi così tanto pericoloso ah c'è non l'ho fatto apposta non l'ho fatto apposta aia qualcuno non ha condizionale le mi dissocio da quello che ha scritto le lecciate tu è l'armatura completa ti aspettiamo al nostro server ci rimane materiale me lo sono fatto da solo zama mi fai vedere il portale dov'è si seguimi e si questo quale vuole già andare al portale ma non sto da avere due di ossidiana scusa grazie grazie non è che te l'ho creati io prendi vieni qua riccio sto arrivando 130 in autostrada se gli alberi non mi fermano sono vado più veloce ma del father a malice hanno visto l'ho visto l'ho visto wow ci entriamo subito nel nether io ci entro e vi porto i materiali grazie sì ci servono un minimo degli stivaletti d'oro per sopravvivere nel nuovo nether stivaletti d'oro dovresti far partire la tarantella napoletana vero hai ragione ma no ma da conto ne so per il nuovo aggiornamento ci serve un minimo di equipaggiamento in oro perché in oro perché raga se no non spaccare non spaccare fed non spaccare la cassa i mob vi molestano lì dentro i nuovi mob li dentro mi molestano sono hai spaccato la cassa e ma allora è peggio del ferro è peggio del ferro è vero però se indossi un almeno un capo di equipaggiamento d'oro nel nether i nuovi mob non ti picchiano se no ti picchiano come se fosse notte fossero mob dell'overworld vedi qualche tammazzo già ma allora ok mi hai fatto vedere dov'è aspetta un attimo ti serve un prezzo di armature in oro o i nuovi pigmenti attaccano ecco che cosa dico solo i nuovi e solo i nuovi pigmenti attaccano quindi ci vuole un pezzo d'oro allora torniamo a casa io torno io prendo l'ossidiana faccio il portale del nether e centro subito bravo 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 il piccone diamante certo che ce l'ho ho trovato subito il diamante ma quanto avete minato no sono io che sono forte non sono sculato vado fino alla bedrock poi salgo di otto e sono a livello del diamante non sapete prendere le coordinate normalmente io le ho prese le coordinate per scavare al tf3 non era alt f4 per sbloccare i trucchi su questo gioco scusate ragazzi comunque master master power ti ringrazio comunque per il consiglio che ci ha dato mi hai illuminato la serata grazie adesso andò nel nether senza farmi stuprare dalle persone stuprato di giorno no io no voi sì ragazzi però mi serve ci se vado nel nether ragazzi ragazzi se vado nel nether ho bisogno di cibo e poi il cibo qua non l'abbiamo vabbè intanto vi porto vi porto quello che ho appena trovato in miniera ricordo a tutti che quelli ricordo a tutti quelli che non sono followati di lasciare il follow e se volete subarvi è gratuito con amazon prime e così su quello siete delle teste ragazzo ci dissociamo ci dissociamo ci dissociamo ci dissociamo tutti gli animali e la madonna non invece la madonna non è fermo ok la madonna non è gay ok ancora credo ci devi abituarci perché anch'io non ce la faccio al massimo io mi dissocio da tutto quello che dicono loro allora io ora non vorrei dirtelo girati dietro di te caro aspetta che ho lanciato un uomo tipo in orbita riccardo girati dietro di te ciao e la madonna cos'hai che c'è tutto no vabbè eh sì ho già l'elmo incantato perché qualcuno l'ha droppato come l'elmo incantato? eh raga c'è il barbatrucco eh certo io sto facendo il pane e vi ingrandisco la farm che è troppo piccola dove cazzo? tu fai quel cacchio che devi fare io faccio quello che devo fare io va bene io mi faccio il pane perché non ho cibo ah ah tedesco tedeschi infame no mi posso fare solo due pagnotte che palle vabbè fa niente ah ah l'altro che siamo tutti quanti vicini dormiamo così passa la notte e la pioggia facilmente va bene sono d'accordo ok io sono già a letto arrivo cheat fede usa i cheat anche se indossi un pezzo di altro toro i ghast e gli oglin ti attaccano lo stesso non è un problema assaggeranno il mio cazzo la mia spada assaggeranno il mio cazzo la spada eh ciucciamelo eh ciucciamelo ah è smesso di piovere che tanto ascoltiamo Lele che probabilmente ci segue da casa si ciao Lele Lele ci segue da casa come tutti gli altri grande Lele salutiamo anche gli altri perché non fanno i male Lele è un forgiato di merda vabbè ma l'avete fatta la farm ah merda ho fatto una cazzata allora avete avete fatto la farm di canne da zucchero no non ancora mi raga le basi cioè vado a farvela io che sto praticamente morendo mi chiamavano cast away io sto prendendo delle mucche per iniziare io vado a prendere oh buono la pelle serve sempre per i libri eh sì dato che noi siamo a corto di un cacchio eh no io vado a fare il signori di twitch è vero sì caro appena riaccendo minecraft faccio la skin con la mascherina va benissimo caro abbiamo bisogno volete fare una casa mattoni no la casa mattoni è l'anticristo va bene la casa mattoni è l'anticristo veramente piuttosto ampliamo questa qua quando possiamo no no io la rifaccio da zero quella lì ve la rifaccio da zero vi faccio un maniero in roccia mentre noi guardiamo lì e ci trastugiamo facciamo le cose che non possiamo dire noi potete dire che vi faccio se vi fate se vi fate i pompini a vicenda lo potete dire perché notando non è ah eh allora ah è dello stupido allora andiamo a ridollarci ma in che senso non ho capito raga eh nel senso che ti succhio via finito il midollo nostra raga abbiamo i polli e le mucche intanto mi so praticamente rifacendo minecraft da capo perché nessuno di voi poveracci vuole degnarsi a darmi un set di di sopravvivenza base ma cazzo ma io l'ho preparato tutto il possibile nella mia nella mia miniera ho preparato tutto tutto il preparabile c'è anche un bel cartello qua che chiaramente non ho letto inutile proseguire siete gay ah eh però dai ragazzi no dai questa è una polla bella e buona è una trappola veramente bella e buona comunque comunque caro mio non puoi immaginarti lo sai che all'inizio dell'avventura su D&D Riccardo era quello più forte del gruppo davvero Riccardo non è più il più forte del gruppo ah si ma perché c'ha scelto una razza che è super ma perché non è una razza è una non è una razza è una classe ha scelto l'artificer ah un mitico un mitico un mitico è scelto la razza ragazzi state laggando come lo schifo ah merda non stai laggando come lo schifo si ho laggato benissimo io ho laggato mi servirebbe del cibo per favore è il cibo lo trovi quando la cassetta ma non è vero non c'è cibo ah aia basta no dai lo sai che ti voglio bene adesso ti do un panino 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mi sa che si servono 14 blocchi tira un pollo oh grazie ne ho 10 me ne servono altri 4 va bene poi andiamo subito nel nether come subito nel nether fede io ho un elmo di ferro basta ci vado io non vuoi niente ma scusami zama ma perché non vai in miniera c'è la mia miniera già pronta scavate allora dove vedete io sono andato giù fino al nether se vedete prima del primo si prima fino al nether fino al al alla bedrock se voi notate ho a un punto ho iniziato a scavare in orizzontale da una parte c'è un c'è una c'è una grotta da esplorare però è piena di mob e io ho balzato allegramente e dall'altra parte c'è un corridoione lungo lungo a quell'altezza guarda che bro tu sei andato dalla parte opposta eh devi andare proprio in quella sorta di struttura bianca che ha fatto fede guarda fede non ti preoccupare perché se parliamo di perché patched benvenuto in live è da tanto tempo che non ti vedo patched si vai avanti scusami dovevo salutare la chat no no non ti preoccupare salutiamo anche la chat diciamo ricordiamo a tutti che vogliamo bene noi alla chat e stiamo dicendo io sono un maestro di esplorazione di caverne piene di mob sai quante volte ci sono morto con i miei amici? ah ok comunque se donate un euro Riccardo esce i piedi ma che cazzo vuoi oh? ah no ci sono ci sono i villager guerrieri quelli che ci attaccano se ci vedono eh la raga andiamo ad ammazzarli andiamo ad ammazzarli con i po' aggiungito molto alto fede 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 vado io vado li uccido io li uccido io eh cosa c'è? fede 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 dove straminchia è il piccone di ferro ce l'ho io perché c'è l'ho io attenzione ragazzi appello importante mi rivolgo direttamente mi rivolgo direttamente alla chat infatti il primo che dona un euro Riccardo si fa ammazzare dai pillager ma basta oh ma perché io? aiuto ok merda sono entrato qua dentro bravo bravo ti ha dato lo standard? eh certo che me l'ho dato ok attaccalo vedete dammi il piccone di ferro sto arrivando a dartelo eh merda io ho già chi sei? eh son dietro casa bro cosa tu quando è che giochi a lol? forse domani gioco a lol ragazzi domani gioco a lol domani domani gioco a lol vede dammi cosa? cosa ti dodo dare? il piccone ah si tieni ma puoi farti tutti i picconi che vuoi dentro casa ho messo il ferro vabbè usiamo questo intanto ho trovato dell'oro uno due tre quattro e andate a morire ammazzati io tanto ho quello in diamante oh beh raga se vi interessa ho mezzo cuore se ora muoio smadono ottimo ottimo ma si oh vediamo un po' sbirro infame ha donato un euro grazie sbirro infame per aver donato un euro bel nome ti stimo vuoto ma sei un carabiniere a cavallo ma è un carabiniere sotto copertura se sei un carabiniere sotto copertura non ti stimo più mi dispiace grazie mille per aver donato un euro caro domani domani gioco a lol domani giocherò a lol ragazzi ve lo prometto in live vi dono c'è vi dono si vaffanculo gioco a lol e vuoi donare i piedi voglio i piedi riccardo allora però non mi puoi vedere quindi no no tu mi mandi una foto me la mandi su instagram cioè su whatsapp dai dammi la foto dei tuoi piedi ha pagato ora vuole i piedi oh era una scommessa eh ho rivolto la chat mandami l'hai mandata? aspetta adesso arrivano i piedi patch arrivano i piedi oh sì oh canne da zucchero bella ci piacciono le canne oh hai mandato hai mandato caro oh mi un attimo vogliamo i piedi vogliamo vogliamo i piedi che cazzo uh uh nudo 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 no nudo no ragazzi adesso arrivano patch adesso arrivano riccardo manda una foto nudo no ragazzi raggiungiamo i sette mi piace riccardo diventa un apostolo non ci sono non ci sono non ci sono i mi piace su eh dovremmo poi li creeremo noi raggiungiamo i sette euro donazioni riccardo diventa un apostolo diventa un apostolo scrive diventa un evangelista mi hai mandato sta cazzo di foto oh feticisti ma no io volevo io allora master power allora doveva essere una battuta non una cosa vera invece va bene ogni volta che donate un euro mostriamo per qualche secondo i piedi di cazzo oh sì ma perché perché ogni mia live deve finire in merda riccardo diciamo un po' di allegria almeno di brio no riccardo non ho bisogno della tua foto da gangster che sto trasmettendo in live ho bisogno dei piedi che video è questo ah un video dei piedi eccolo il video il primo che tocca le mie bistecche nella fornace di sopra riceve i piedi in culo basta che non mi toccate di la verità che sei un feticista no non sono un feticista carissimo animale del bestiame lo faccio che schifo che schifo e porto un fetici no non riportare non si è visto nulla quelli lì servono proprio da allevamento quando ne abbiamo tanti ne amazziamo va bene ragazzi andiamo andiamo nel nether e moriamo nel nome dei piedi di riccardo ho capito tutto ok oddio sono in una foresta sono in una foresta ragazzi sono in una foresta ma mi stanno attaccando ragazzi sono in una foresta non so che cosa fare non so cosa esplodi ragazzi io qua non so come funziona ma a me non si sta ricaricando la vita oh oh sono alberi quanto spacca il nether adesso si spacca un botto ragazzi però ho bisogno di un ascia questo chi è è amichevole è andato nel nether ecco perché c'è la ah merda ma mi attaccano eh si non c'è il oro ma no ce l'ho l'oro eh allora ah sono territoriali allora mi serve un ascia bella fede vengo a buirmi a te quello è legno cazzo quello è legno oddio mio stava crashando il server oddio gli assi cremisi gli assi cremisi ragazzi guardate gli assi cremisi che ho appena raccolto li metto di fianco ragazzi ragazzi fammi entrare dormi io ora che direi di dormire oh come l'hanno migliorato momento momento sto raccogliendo fede sono i blocchi cremisi ah oh ma mori ci sono questi animali sindiali appunto bisonti ma se sei entrato nel nether no bro allontanati dai bisonti allontanatevi dai bisonti questi qua vi demoliscono come dei molestatori no non sembra che siano cattivi no no sono cattivi ricky no ti attaccano riccardo e lo sapevo e sei deficiente no 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 non mi stanno attaccando non mi stanno attaccando meglio così cioè mi stanno lasciando ah in pace ok credo se figa vai a picchiarli ovvio che poi questi reagiscono dirla ma io voglio ma mi droppano carne di maiale come si faceva lo scudo ma droppano anche la pelle fantastico veramente si dark nebula hunter ciao benvenuti in live ora tutti vogliono scopare nel nether no non vogliamo scopare nel nether ok ma era l'urlo di una ragazzina si era il mio urlo da battaglia no scudo bro vuole un scudo io no non ne ho merda ma mi lanciano in aria vuole uno scudo no anzi si grazie mi servirebbe proprio uno scudo allora prendiamo questo legno che mi sembra buo bello e io vado continuo ad esplorare il nether no senza blocchi non posso esplorare perché c'è ho ciò che c'è un zombie qua no no ma non vi attaccano mio dio quanto è bello il nether ora quelli vi attaccano solo i pigman non ti attaccano se hai un equipaggiamento d'oro ah ok bene 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 ho capito grazie mille ancora caro gambo cremesi qua c'è della pelle questi qua sono solo per i minerali raga non mettiamo le cose a cazzo per favore si non mettiamo le cose a cazzo perché se no ci spariamo nei coglioni scommetto che cade una in una pozza di lava no non sono così stupido si sono così stupido però non lo farei mai ora devo fare buona figura con i ragazzi buona figura fai tanto l'espertone cazzo ne so che è cambiato tutto che figo però le assi crazy ritengo scherzando Fede è veramente quello più esperto di me per il semplice fatto che gioca da molto più tempo sono uscito e l'ho visto io gioco da poco a minecraft solo dieci anni master power quanto ti voglio bene quando lo dici sono uscito e c'era il coso io so io ho urlato di paura non hai sentito le mie urla virili ma figo ma sono difficile che è successo raga qualcuno è morto e no è esplosa la casa no è esplodere un cazzo di creeper no ma chi è sono uscito fuori casa e c'era il creeper non è colpa mia raga ma è il governo infame raga è come quella volta che te l'hai scagliato addosso praticamente non è vero domanda da 100 milioni di minchia che casino domanda da 100 milioni di mini villager mini zombie villager dove 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 eh no me ne ho poi tranquillo faccio rimanere tutti i polli qui ma figa allora raga domanda importante si può dire qua tipo ebreo no vabbè se se non lo dici con intenzioni cattive sì perché è ammazzato un po' il me cazzo di po' ho sempre stato voi da farlo ho avanzato io eh non mi frega niente di polli adesso arriva uno scheletro eh raga adesso ce la pensate voi e va a far culo dovuti stiamo calmi anzi fa fede ma scusami kamikaze simulator ripperotti un pelo di attenzione in più va bene eh oh che cazzo sta roba vabbè addio torno nel nether raga ci sono dei cosi ma la difficoltà quanto l'avete messa ragazzi hard vero quanto ricordo si oh nella lava stronza ecco perché ci sono così tanti mob che vi rompono le balle certo cosa vuoi fare tu no ti hai attaccato ok non hai attaccato un pigman oddio mio stavo per per ammazzarti riccardo no no piuttosto è lui che ha attaccato me di sua spontanea volontà ah ok va bene allora non era un pigman c'è da dire una cosa molto molto poco stones qua la gente è forte ma non è minimamente armata con equipaggiamento tipo incantato il che è brutto io sono incantato no ma adesso la gente non droppa armamentare incantato e allora eh ecco il problema allora non siamo in nether perché i nether invece fanno ma guarda che l'hanno sempre hanno droppato a fede l'hanno incantato ho preso uno su un milione ok bella raga siamo accortati 5 creeper l'ultimo che esplode è vince un sasso ok bella raga sono esplodati 90.000 creeper ricky vedi dove sono io aspetta un attimo qua la foresta diventa di colore blu oh che bello aspetta ti raggiungo oggi faremo la prova a non morire charmander ah charmander perché è un pokemon il moon provo provo ok perfetto ok dove canza sei fede sono qui sono qui continuava vai avanti oh che bello spacchia io spacco il legno ma perché continui a metterle cosa cazzo qui minchia e basta che apri il menu c'è scritto ah è vero hai ragione ok io sto entrando usando metodi molto alternativi oddio il legno così è blu wow siamo nel moto dei puffi è una porta le puffi saranno così abbiamo lo sapevo che lo stavi per dire lo sapevo che sta voler dire ma perché perché io devo lavorare con certe persone ogni volta fede hai ragione ma lo scelgo sempre io questo è il bello fede mi dispiace io spero che tu ti stia divertendo perché io mi sto divertendo un casino però sopportaci lo so non ti preoccupare amore ti voglio bene vedrai 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 sabato e domenica quanto ti vorrei quanto mi vorrai bene questo momento molto toccante in cui per la prima volta due persone mi stanno massacrando il primo che dona 3 euro fede mi confessa il suo amore va bene ho trovato un minerale ho trovato un minerale nel nether nuovo non l'ho mai visto che cazzo mi ha droppato che cazzo è che cazzo è pepite d'oro mi ha droppato scimi di merda chi è morto è preso tutto un equipaggiamento sei morto Ricky eh no però figa ci è mancato qua no ci sono questi ci sono questi dove sei dove sei non puoi dirlo ah eh rip dove sei Ricky dove sei sono tornato la dimensione nostra ah minchia sto per morire sto per morire sto per morire sto per morire ah basta che gli do un colpo e se ne vanno ah ma sono siete delle ficchette ma una volta giocate cazzo di pomeriggio così gioco anche io va bene la prossima oh allora allora suino di merda merda ma nessuno si bo eh raga Fede mi ha fatto spodere il bestiave che cazzo devo fare uno non puoi provarlo oh si che posso eh vediamo come lo puoi provare wow che cazzo di prova è usci ok bene abbiamo zero cibo ottimo ma io ho sette bistecche di maiale non cotte eh cuoce oh ciro infame ciro infame dona 3 euro grazie ciro infame allora ok Fede la professione mi raccomando deve essere il bestiave io sono sempre stato sono stato sempre stato gay Paola la amo perché è solamente una brava ragazza però il mio vero amore sei tu caro ti voglio bene oh lo sai che Paola è sabato no perché di solito quando faccio queste cose vuole il video del sesso gay ehm ok no lascia stare no no guarda io io sono io sono cattolo ha un pezzo di carne io io sinceramente ti voglio così tanto bene che sabato faremo faremo tanto sesso gay allora puoi parlarmi ora hai un pezzo di carne ho bisogno urgentissimo ho sette pezzi di carne dammene il tuo in questo momento sono in mezzo al nether e mi sto perdendo quindi dopo che ho finito di perdermi nel nether arrivo non mi sta più parlando perché in questo momento non sa se insultarmi o o ridere di questa cosa Fede è gay e ama Paola perché sotto sotto c'è il cazzo beh no oh Fede ci nascondi qualcosa? ah sì ma in realtà Paola si chiama Mimmo oh cazzo ah 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 tafuro 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 se stai guardando Mimmo di la verità di la verità che si chiama Marcello altro che ok mi sono perso ah ah Marcello Mimmo e Marcello ai nostri followers c'è qualcuno che si chiama Marcello non prendete la Fede è gay ma vabbè Paola se riguarderà mai questa live mi uccide oh sì ci piace è pieno di enderman non so perché per me il momento è andata per te sempre dai che voi avete almeno un pezzo di carne sto arrivando a casa sto arrivando a casa caro no Andrea io sto andando a rifarvi una vita io me ne vado ah merda suino bastardo pumba di merda pumba pumba di merda associaci un bel dio e vedi come va a finire tutto bene esatto ah ci piace ma mi droppano mi droppano mi droppano anche la pelle la pelle di maiale scusami no la pelle proprio il cuoio mi droppano ah il cuoio ah vabbè possiamo farci libri con quel cuoio sì perfetto allora quello è l'importante vabbè io ho esplorato ho trovato anche delle pepite d'oro delle pepite d'oro però ho bisogno di materiale da adesso torno indietro abbiamo esplorato per ora io direi di io torno prendo ancora un po' di avorio avorio come avorio quarzo quarzo cazzo è vero è quarzo avorio e vabbè potrò mai potrò mai sbagliare non terraria se vedi dei pigmen e gli butti dei lingotti d'oro ti danno delle cose in cambio tra cui un enchant trovabile solo tramite questi scambi e non erro l'enchant si chiama soul speed ti permette di correre sulla soul sense e sulla soul soul ok van bene anche le petit il no i lingotti d'oro aspetta un attimo li posso fare no non li posso come si facevano i lingotti d'oro allora creo anche qui una no adesso ci provo cazzo mi droppano delle cose niente il cibo aspetterà bambini mangerete domani e voi e voi dovete dire grazie papà eh ma papà è già il terzo mese che sto continuando a montare la mia merda non ce ne cosi più papà per favore il celebreo nooo non si può dire non si può dire mi dissocio è una stirpe no c'è qualcuno di quelle persone lì tra i nostri follower ci dissociamo tutto quanto goliardia e certo comunque a me fanno troppo ridere i zombie perché il loro bersebra mi mancava la cancrena alla mano destra per muovere sul buzz si esatto non avete idea veramente sono mesi che non giocava a minecraft ormai comunque per quelli che ci seguono a casa consiglio molto importante se mai dovesse essere troppo si può dire un po da provare minecraft sulla play non fatelo perché è la cosa peggiore che ci sia al mondo se avete provato io ce l'ho minecraft per la play è stato il mio primo gioco per la play ma non lo prendo il lingotto d'oro qualcuno mi sta trollando si può dire diversamente teorosessuali si dai stranosessuali è la parola perfetta secondo me stranosessuali dai ragazzi ho appena scoperto che non c'è un limite sulla lunghezza dei messaggi vero no questi tipi non questi ah non questi tipi di pigmen allora quello quel pigmen lì adesso glielo lancio vediamo ah chi mi sta attaccando pumba ahhh pumba di merda no ho un cuore e mezzo scream veramente epocale esatto ok va bene mi hanno droppato della pelle mi hanno droppato mi ha droppato ah no non mi ha droppato otto di pelle mi sembrava troppo adesso io per colpa di qualcuno che non ho meno fede vero devo trovare un altro cacchio di pollo e portarlo a pollare per ricominciare da capo il pollare ah ah bro io mi ha appena ammazzato di tre potevi dirmelo che ne ha tiravo uno e trovi un pollo si esattamente quelli quelli otto di pelle te la te la ah me li hai dati il pigmen gli otto di pelle oh buono vedi non è vero lo capisce come cazzo basta figa qui viene da sotterrarmi infatti sembra la cosa più brutta del mondo ecco questo era peggio eh scusa dovrò aggiungere un po' di unicconicconi è ovvio erotismo oh si un po' di modismo di stuprialismo ok va bene adesso costruirò una casa il primo che dona va bene ragazzi un euro di 50 riccardo gli esce mezzo cinocchio mezzo cinocchio va bene donate un euro e 50 e riccardo fa uscire mezzo ma che cazzo vuol dire ma che non so ma chiedelo a quel menticato oh sono affari io cerco di farti portare soldi Fede tu ti lamenti pure va bene grazie ho ragione qualcuno mi sa dire le coordinate di casa per favore però io sto guadagnando un bel po' di cibo proprio per tutti grazie io ho tipo 23 bistecche di manzo oh perfetto cuciniamo eh sono andato a caccia in realtà chiamano piglin quelli senza la parte scheletrica e pigman quelli con la parte scheletrica grazie master power mi stai veramente riempiendo di notizie grazie mille caro e nuove cotolette di manzo grazie mille master power oh che bello master power è candidato al premio nobel per la pace no però sta aiutando è simpatico ho detto premio nobel per la pace mica per te ma che cazzo è questo che vedo qui che cazzo è questa cosa che avete creato che sta creando vabbè non faccio domande Riccardo continua così questa è la mia casa un euro e cinquanta e Zama diventa donna oh yeah il primo che dona cinquanta euro Riccardo si fa un tatuaggio con scritto solo questo cavo allora il bello di Twitch è che mi confondo perché cioè se io non posso dire la parola che ovviamente Zama ha appena detto io veramente mi sparo perché vado in confusione di non poter dire neanche una singola parolaccia ma ragazzi e se tornassimo più volte su questo server in live se volete se vi diverte naturalmente stare in mia compagnia no Fede non ti vogliamo va bene grazie ma in realtà per me non c'è problema il problema è che devi convincere Andre perché gli hai fatto esplodere i polli vabbè erano un po' islamici preferisco il premio Nobel per il terrorismo il premio il premio il premio come fatto con una coppa a forma di c4 forse Disney da nulla ah quindi dico cazzo Disney cazzo e poi ci dice volete Disney così ci guadagni che guadagno 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 è io no come ci sono mostri delle vicinanze neanche senso è è avanza riposare ci sono i nostri che cazzo sono sono oh ora posso dormire dai a dormire dai raga a dormire si io invece però me ne vado dall'altra parte a dormire ah merda è vero è notte mi stanno inseguendo bene ciao ciao che se ti inseguono poi vieni figa ricchi ma perché lasci la porta aperta sempre lo chiuso io no non l'hai chiusa invece si no hai prove perché non posso dormire mi sono stato io no perché non posso dormire e che puoi dormire mi dicevi ci sono mostri in vicinanza ha tirato i mostri scemo eh raga chi è il pazzo maniaco che l'ha fatto vede ma non c'è nessuno non c'è nessuno giuro su dio non c'è nessuno eh non funzionano i rumori sì raga io c'è bella raga sono tutti oh weh young topo benvenuti in live weh buonasera sono passato solo a fare un saluto a te a tutti quei che guardano live e anche ai tuoi amici grazie mille young topo grazie mille ricambiamo ricambiamo comunque dovresti aggiungere nuovi premi sbloccabili con i punti hai ragione master power ci devo lavorare tanto fra un mezzo fra una settimana e mezza arrivano anche le nuove grafiche quindi vedremo vedremo confermo interessante non è che possiamo murare vivo un zombie tipo mafioso nel pillar ma potete dormire che io sono qua da mezz'ora che non possiamo dormire ah io sì sono entrato dio mio santo no fra dieci minuti c'è bisogno di riaggiornare il server ecco fede stavolta dimmelo in modo tale che io lo posso fare senza uscire e non lo so teoricamente si può fare anche nel mentre però non lo so scusa ma domani ho una verifica a prima ora e non posso rimanere fino a tardi non ti preoccupare young topo anzi fai ragione hai ragionissimo a ripassare ragazzi ma santo iddio non possiamo dormire se ci sono i mostri ma se io stavo dormendo no no sono penso penso di essere morto dove che lo pensi lo sei no 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 non esplodere maiale ho visto ho visto ho visto aspetta ho visto uno zombie io ho visto uno zombie che partiva alla velocità della luce tipo team rocket io ho visto invece il mio schiaffo che stava per arrivare a te dopo la velocità da me beh staresti potuto arrivare in bici da me buona serata a tutti e alla prossima buon proseguimento grazie young topo sei veramente gentile ciao young topo allora al massimo chiudi chiudi il server facciamo 8 minuti di pause e poi rientriamo young topo sei un grande non so che tu sia quando si chiude il server si è un grande lui tipo ha portato 10 follower sul mio canale ora vado a fare qualche game in solo 2 alla prossima master power grazie mille buona partita al league of legend grande master power ci sei stato molto utile stasera super morale topo soprattutto a me dopo che mi hanno distrutto il pollame 5 volte f in chat per i polli di di andrea mi spiace oh qua c'è da rubare che cazzo mi è passato di fianco bella è passato di fianco a me si è preso un colpo si tra l'altro che cazzo mi distruggi casa ah no stavo aprendo uno sbarco per gli zombie niente scusami oh ma c'è esiste la porta scemi barbari non esiste una porta ma non è vero ma cos'è una porta le porte non esistono le porte non esistono sono l'invenzione dei poteri forti e poi perché dovete fare la casa mia ma per l'amore di me questa è casa mia avete finito di cursare in giro voi stronzi ma mio dio ma sta arrivando aaaah ah e rip mi l'ha scoperto eh vabbè ma dai c'è figa fatemi entrare no fatemi entrare Ricky Ricky sta sta arrivando il cazzo di mondo chiudi sta can no brutto bastardo guarda grande grande apri chiudi aspettiamo la morte qua dentro questo è praticamente il mio bunker antiatomico questo mi faccio anche una casa a parte perché con questi qua io non ci convivo soprattutto con fiere ma cosa vabbè io mi sto facendo io ci sto facendo la mia casa la mia casa bella che lo farò con gli alberi perché mi stai twerkando addosso no 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 questa casetta sarà la casetta in comune dove ci sono tutte le cose necessarie di quale un sogno no no io mi faccio il mio castello privato vaffanculo ok ma qua ci sono tutte le nostre risorse hai ragione hai ragione hai ragione anche tu hai ragione ma è arrivato giorno santo iddio sembra giorno vedi il sole che brilla no stiamo in un bunker antiatomico come cazzo facciamo vedere il sole coi raggi hicks allora possiamo vederli coi raggi hicks se vuoi allora io prima o poi mi farò una casa lontano da voi che bel bunker però una porta potresti mettere oh cazzo un creeper porco schifo chiudete non c'è la porta cazzo cazzo no no merda 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 ok aiuto fede fa dei cut screen che sono davvero percorso troi no venite qua distruggete tutto i bambini i bambini i bambini uccidi i bambini merda sto morendo di nuovo scappa eh si non ve lo faccio rispettere due volte sai com'è ho un cuore e mezzo ragazzi tra poco e giorno e adesso sesso adesso che mi faccio così la mia bella casetta e nessuno mi rompi i coglioni ok fede tra quanto si ragiona chi ha aperto chi continua ad aprire tra 4 minuti chi è che ha fatto entrare i zombie perché siete stupidi tu sei stupido è da tempo che non mi divertivo così tanto ok io parto per un'avventura ho mezzo cuore non spammate il colpo non funziona se spammate il colpo bravo 22 bistecche oh lasciale lì lasciale lì sì sì devo mangiare aspetta oh non male casa tua comunque eh che cazzo eh certo se non ci fosse un buco nel soffitto creato da quel minchia di creeper che ha portato dentro quel coglione lol no ho consumato non male casa tua devo dire bene bravo ma questo è solo l'inizio questa è la parte iniziale certo certo questo è tipo la hall l'ingresso guarda sono così sono così orgoglioso del tuo lavoro che ti lascerò un log qua al centro della stanza oh grazie che gentile eh ne raga andiamo ad accettare la foresta andiamo a griffare la foresta oh lo scheletro ok questa io rivendico casa mia ahia grazie a tutti quelli che me l'ha andata no vattene via da casa mia vattene da casa mia barbone tranquillo tornatene a casa tua aiutiamoli a casa loro è arrivato il leghista è arrivato Salvini aiutiamo lì a casa loro oh che ne dite di staccare un attimo e fare due chiacchiere aspettando che si rabbia il server che qua mi sta la mano mi va davvero impazzendo no no non ti preoccupare succederà proprio questo tanto fra poco buona sapersi tanto fra poco si chiude e rimarremo un attimo a fare just cheating ah ok domanda di cultura fede quanti quanti bros hai su twitch 235 not bad not bad ci piace 235 quanti a seguire? quanti amici? in che senso? ora in live? in questo momento ora sono 3 prima eravamo in 7 e 8 eh ci sta dai si la scorsa live eravamo tipo in 15 vabbè ma dipende anche dai giochi che porti poi minecraft sempre però dipende si si dipende dalle fasce orarie caro perché i giochi prendono di più ma scusami se vuoi vedere vedere queste cose qua se vuoi puoi iscriverti al mio canale twitch così te lo vedi subito in automatico no? vero dovrei farmi twitch però vabbè è un per farti twitch è come farsi facebook caro sì sì perfetto vabbè dai ci penserò allora tanto non è la prima volta che lo faccio ma guarda sono stato fortunato perché discord già ce l'avevo sul computer non sono dovuto neanche stare troppo lì a installarlo bene bene meglio perché sono stato dovuto alcuni problemi con vaio mi sono perso come cazzo hai fatto a perderti? scimmia aspetta 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 no aspetta c'è qualcosa che non va oh merdo oh merdo ho sbagliato così tanto? guarda caro se vuoi durante la pausa puoi provare a lasciare il follow mi sono ritrovato server chiuso va bene dobbiamo aspettare dobbiamo aspettare che il nostro caro amico lo riattivi intanto qui siamo con Gesù che ci fa così vabbè per tutti quelli che non stanno guardando la live non possono capire chi è Gesù che fa così io invece che lo sto vedendo capisco bene sai chi è questo palloncino che c'è di fianco a me caro tutto sorridente sei tu no si chiama depressione eh sì è la mia depressione l'ho disegnato ho fatto un palloncino e ho detto dai sarebbe divertente eh ragazzuoli ok potete già rientrare possiamo già rientrare sono già rientrare incredibile signori oh guarda quanto è diventato bravo riccardo crescono così in fretta vero quando li coltivi poi sì ma cosa sta dicendo che a me non fa rientrare menzognero ah per hai cambiato di nuovo la password del server allora certo ve li ho mandati sul chat ctrl c oh guarda raga sono già dentro ma porca troia io invece no perché sono spastico aspetta aspetta ok 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 va bene cancelliamo ok fatto aggiorniamo e rientriamo ragazzi perché hai Mario impiccato sul microfono non è Mario impiccato è un portachiavi a forma di Mario impiccato possono impiccare Mario non ora ragazzi la Nintendo non è felice di questo scusa Nintendo non lo faccio apposta in realtà noi portiamo un grande rispetto alla Nintendo io sono cresciuto giocando i giochi della Nintendo e detto questo Gesù Costa oggi ho giocato mattina veramente dillo parole tu ho giocato a Pokemon Nero madonna aspetta due ore per catturare virision virision due ore eh che belli che belli che è parlare diciamo mettiamola così parlare e micchia dove è il mio legno colorato farmi usare la Master Ball perché cioè continuiamo a uscire faceva sempre tre e poi usciva ah palese quando fa così ma scusa ma l'hai portato almeno a metà vita tipo lei ha tormentato ah ma ce l'ho nel paralizzato no quelle volte era sempre a rosso poi quando veniva paralizzato congelato gli faceva un brutto colpo per sbaglio e moriva eh ma che cazzo così ho passato due ore poi dopo al primo tentativo l'ho catturato vabbè e ora e ovviamente me lo sono masse squadra perché dopo tutti quella merda ho fatto qualcuno ho anche cobalion è un bel tipo acciaiolotta sono a acciaiolotta e erbalotta sti cazzo bene 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 sono a Bordeaux oh merda è vero voi state ancora guardando Gesù sono dimenticato di cambiare lo schermo scusate ragazzi avete ragione dama dama è presente no 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 sono tutta l'ultima parte sono a Bordeaux ah Boretuopoli non Bordeaux che cazzo è Bordeaux non mi ricordo questo di Boretuopoli dove c'è il capopadesso di tipo drago eh The Benz ischicking in bello bello Aristide si chiamava che nome si è Aristide che minchia sembra un nome da vecchio madonna io vado a cogliere un po' di legna in realtà si vado a cogliere della pietra ragazzi non c'è niente covid eh ragazzi eh ragazzi se c'è il covid se c'è il covid c'è il covid ah per favore non chiamare covid che veramente io spero che quella lì veramente se lo prenda ci rimanga secco twitch ovviamente no si può dire questa cosa non si può dire scusate però ho chiesto scusa ovviamente ho chiesto scusa sto scherzando ovviamente mi dissocio ovviamente stai scherzando tra mille virgolette scherzando ovviamente ovviamente ma porca puttana ok comunque raga scarsiciamo di tipo minchia sono caduto giù stavo per morire porco puoi dirlo eh dio ha completato l'opera ho laggato un secondo poi parola bro lo sai che ho ma tu dai ti ricordi il tema dei tre spadaccini no si invece bellissimo bellissimo si il tema di pokemon nero degli spadaccini è veramente bello si si beh anche quella di nardo la di nardo è la più bella na 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 ok basta il coro dei disadattati basta il coro degli autistici vado a salutare Ricky vado a dargli una mano con la casa se volete poi possiamo giocare anche ad among us in una prossima live fare proprio l'immigrato in altre case perché non te la costruisce anche tu la casa è vero ho zitto già ma se voi per farti una una stanzina nella mia io non ho voglia di farmi una casa ancora allora fate una stanzina nella mia no non voglio neanche vivere in subaffitto per favore dai io non pago affitto dai che c'è un programmino bello bello chic per la mia scherzi però non si scherza su queste cose guarda che io su facebook mi chiamo faccio opraio guarda che questo può essere copyright no non è che può essere è copyright quanto è forte il copyright su twitch fede over 9000 eeeh per la madonna scettino oh merda ho sbagliato porca troia puttana di merda fede andiamo a nether si si ora ci devo andare per forza per farmare ah perfetto allora vengo con te ho scoperto ho appena scoperto una cosa fantastica vabbè fa niente queste sono le cose che mi servono per costruire la casa tanto ho tantissimo aspetta un attimo che metto il letto numero 14 del maestro ho impostato impostato devo prendere devo farmi una un'ascia di ferro perché devo asciare tutto il legno blu che che trovo però se mi segui nel nether mi devi dare retta e cammina dove cammino io va bene ciao bella bro com'è tantissimo wow no abbiamo abbiamo solo un lingotto di ferro vabbè mi serve la lava che faccio il la lava cioè faccio la mi serve il ferro però penso che ci sia giù da me qualche pezzo di ferro adesso vediamo sperimento sociale proviamo a dormire nel nether non si può io 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 auguro che andrea un giorno vada a dormire nel nether perché che cazzo vuoi non vuoi soltare una persona spero che tu vada a dormire nel nether oh shit cazzo un dungeon di belle cose allora possiamo farlo solo di ro di pietra quindi prendiamo tre pezzi di pietra e poi ci prendiamo un po' di di lel di no sta diventando notte ragazzi andiamo tutti a dormire giura eh giuro cazzo vado a dormire nella mia casa che sto creando io ho da dormire nel mio magazzino invece eh oh fermi raga io cazzo sono nel miniere no no devi dormire dai dormi oppure discondendo schicchiccati dal server così la notte passa siamo tutti a letto andrea ora si siamo tutti nel letto si siamo tutti e io mi sveglio con uno zombie accanto al mio letto ma che bel risveglio dai ragazzi dai ragazzi su dobbiamo cercare anche la fortezza del nether del nether andiamo a letto chi cazzo è il froge non si può dire dai dai chi deve andare oh mio dio un cazzo di parto io non ti ringrazio per niente ok allora perfetto ragazzi ho scoperto un dungeon sotto casa mia ottimo un dungeon non vedivi l'ora vede è ora vieni adventure time chiami tuoi amici andremo verso terre lontane non c'è che il cane fin l'avventurero ci divertiremo in adventure time dov'è cazzo oh brutto coglione di merda che dica fai ti spacco i denti via via Ricky muovi il cazzo di culo vai e questo coglione che ci ha sbarrati ok ok ah ma l'ho ucciso sono fortissimo allora ti faccio il culo fette porca traia vieni qua brutto bastardo di merda figlio di proia dove scappi fa il culo va figlio mi stavano cecchinando in mille siete delle merde siete veramente delle merde voi che non ve l'ha detto ma guarda come mi ha ridotto l'entrata c'è figlio che con le assi me la stavo sbarrando sto ricchione sto co dai ragazzi ragazzi dio mio noi ci proviamo ma non è così facile allora io vado nel nether da solo vaffanculo dai sbrigati vieni zama sto aspettando te ma hai detto che vai da solo ma io devo raccogliere legna ormai e infatti e io sto andando a raccogliere sto andando a raccoglierla nel nether la legna ma tu stai raccogliendo la legna dal mio cazzo di albero ma che cazzo stai dicendo oh ragazzi hanno immigrato oddio neanche questo ma come no dai allora non si può dire veramente un cazzo eh no twitch però se associate dio a un animale potete dirlo ah ah dio bestiale perché dio è diventato un mostro di benten ah così scogliattolo ciccioni in mondo incazzatissimo il mondo celestiale il mondo celestiale è orrendo c'è uno scheletro che è la cosa più brutta della legna e lo sapete una cosa? Lele vola ma mica se te la trasporta? anche anche allora facciamo così facciamo un gioco dimmi quello che Lele non sa fare mangiare cioè l'unica cosa? potrebbe essere sì è certo i forgiati non mangiano i forgiati come cazzo vuoi che mangino? non mangiano un cazzo i forgiati oh ma che cazzo vuole? oh oh no raga muoio 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 madonna se ci muoio madonna se ci muoio porca troia corri 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 che cacca che cacca che cacca che cacca no raga raga riccardo ma ragazzi ma io perché io sto farmando nel mio nether che cazzo vuole devo andare a fare la mamma va bene andiamo cazzo no zama porca ecco perché non sta lì pancuni invece di fare il pirla io tu hai il targo ma dai però che cacca troia figa zama invece di fare il pirla vieni ad aiutarmi oddio ma questi non sono alberi cosa dio che schifo questi non sono alberi non sono fronde di alberi sono verruche ah le verruche sono frami cioè io ho spaccato ho spaccato la cosa degli alberi ho bisogno di più una mano e non posso ora lo stai facendo ragazzi io aspetta ho spaccato l'albero e invece di mi ha detto che sono verruche che schifo si mi ha detto che sono verruche una torce una torce eh vabbè ce li ho io eh ok oh guarda che già partiamo bene non ti preoccupare vai 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 sali eh sali non ti preoccupare non ti preoccupare ma che devo stare attenti a non a non metterci davanti agli altri perché se no c'è il fuoco amico ma perché è tutto distrutto da me scusatemi ma Zama ma tu stai piegando mani nude no con un'ascia ragazzi perché è tutto distrutto da me ah boh mi sto mi sto mi sto mi sto inca mi sto inca Zama cazzo qua non vanno giù però sti maledetti eh fammi spazio Zama che ho la spada ah vai ok no dai ragazzi porca di quella troia adesso non ho non ho più blocchi perché io vi sto odiando io vi sto odiando in questo momento ok non c'entra niente no 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 Zama attento 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 figa che a sinistra c'è il delirio non ti preoccupare perché qua c'è un blocco perché qualcuno entra ah che palle dai devo rifare tutto da capo veramente ma santo dio occhio arrivano 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 non ti preoccupare sono qua shit 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 ok vi sta piacendo ragazzi la casa io sinceramente mi sta piacendo se qualcuno non venisse a rompermi coglioni ci sono i materiali sto prendendo sto prendendo uh ferro grazie adesso vabbè ricostruiremo ma perché avete no oh Zama Zama a sinistra c'è il delirio arrivo arrivo oh oh un creeper un creeper figa no Zama a sinistra c'è veramente il delirio ma perché io continuo a sentire cose che esplodono tranquillo ero io ah ok ah ok tranquillo ero io quello che esplodeva morendo no non sono morto ah ok è che io voglio scoprire dove ci sono i materiali e trovo scheletri ovviamente se ci sono tanti scheletri o tanti mob o avete messo l'hard oppure siete vicino a uno spawn ma Ricky ha detto di averlo messo l'hard ma meno male che siamo in hard se no non c'è divertimento no è stato troppo easy sono l'unico che pensa che è stata una cattiva idea ed è una cattiva idea allora qui che palle io devo andare a rico mio dio lo sapevo io lo sapevo eh che cosa sapevi ah ah succhia torniamo a costruire torniamo a prendere quei materiali che mancano per finirla a casa vado su a mettere vado su a mettere un paio di materiali nella cesta ole' oh bello no sto per spaccare merda sto per spaccare l'elmo eh va bene in oro fa cagare l'oro ok per il rosso siamo a posto mi manca il blu per cercare la fortezza nel nether ci vorrà un po' ragazzi per la fortezza del nether perchè non sappiamo dove sia non sappiamo dove sia non sappiamo dove sia la fortezza del nether è questo ci servirebbe tantissimo la fortezza del nether ora non moriamo in live per favore hashtag hashtag non moriamo in live esatto ok ho abbastanza materiali posso tornare oh figo ho finito le frecce dell'arco ottimo io ho ancora una freccia tipo eh lo sai che per fare l'arco infinito bisogna fare la farm di pesca farm di pesca si te la faccio te la se mi ricordo bene come si fa te la faccio ve la faccio io ragazzi è una farm dove tu peschi all'infinito si beh felice è arrivato peschi all'infinito e se stai lì per un po' con un almeno una canna da pesca con fortuna così ci impieghi meno trovi di tutto trovi i libri e tutte le altre cagate belle te credo oh mio dio sto sbagliando qualcosa no non sto sbagliando nulla oh merda ho sbagliato fede ma tu dovresti vedere la casa che ho nell'altro io ho un altro server in cui figa una casa in stile giapponese una figata eh sì ho ancora una pagoda tipo a 12 piani o per la mia ti ricordi la mia casa ragazzi non stiamo con i dragoni comunque Zama se non hai se non hai un posto dove andare puoi puoi dormire da me un tempio giapponese antico con i dragoni di già da sopra grazie fede mi sa che accetto ok va bene fammi finire i muri vai tranquillo vai tranquillo uno e due raga andiamo a dormire sì 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 adesso dai ancora Zama l'entrata è di qua no non si può dire ragazzi smettetela ma perché ma basta aspetta fede ho no tranquillo ho letto di là tanto adesso vado e non trovo l'uscita ma come giuro non sto trovando l'uscita bruttino vero grazie ah andresi sta facendo la casa sull'albero figata 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 io mi faccio la casa molto ora questa è solamente la prima parte della casa spero che vi piaccia esteticamente ci può stare ci può stare ora devo trovare solamente un dai chiudiamo io ci sono mostri nelle vicinanze merda bello che io qua posso stare tranquillissimo perché non ho bastato aggiungermi più uccidiamoli dai dai andiamo subito a casa merda no raga seriamente non sto trovando l'uscita eh vengo in soccorso aspetta ok io sono stanco di uccidere merda uccidere merda no di eh perché sono pieno di merda ecco un altro dungeon grande ma perché io volevo trovare l'uscita eh scheletri eh giustamente allora raga mi sa che ci muoio qui ve lo dico eh vabbè fa niente succede oh sono riuscito a metterli uno contro l'altro forse sopravvivo ma grande le fortune del principiante io volevo Riccardo morto e invece io volevo Riccardo mi sa che vi abbandono c'ho sonno va bene dai fa niente merda ma sta venendo tutti da me cazzo no signori mi sa che io vi saluto anch'io questa sera oh no di già che ore sono ah si io teoricamente dovrei chiudere la live ora ah tra l'altro perfetto beh signori comunque è stato un piacere se mi serve di nuovo un partner si si assolutamente ma prima finiamo la senti io spacco allora per ora vedendo che la situazione sta diventando una merda e che ricca e c'è Andrea ha fatto la cosa ah merda ahhh fammi uscire brutto finocchio non si può dire mi dissocio ragno di merda ragno di merda che schifo andiamo a trovare Andrea perché non si sa mai vai andiamo tutti a dormire mi fate chiudere casa bastardi andiamo ad Andrea ma perché che si no mi si è spaccato l'elmo merda che si è esploso qualcosa sotto casa tua sto facendo esplodere un po' di creeper no no fai prima a scappare Zama Zama scappiamo a casa di oh ma c'è il venditore invisibile sotto sotto Andrea che con gli smeraldi compri roba Zama si io sto entrando a casa di Andrea in modo illegale bene io io sono in casa mia cioè nel vecchio magazzino ok oh ahhh no 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 fottiti animali di me ma mi hai rotto la cosa no non ti ho rotto nulla guarda ecco ti ho rotto qualcosa no buonanotte è abusivo sì perché ci sono i mostri dai chiudi chiudi dai vai a dormire siamo tutti a dormire ragazzi dai che faccio così l'outro del sì signori dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi che se troviamo qualcuno da laidare al massimo facciamo un raid dai ragazzi andate a dormire fede forse non l'hai ancora capito che io sto per morire e sono nel bel mezzo delle rovine e va bene allora scopero Andrea ma che cazzo oh vabbè guardate da lontano la mia casa sta diventando grande riccardo 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 è colpa mia no no è colpa è colpa di Gesù a parte che hai merda merda quanti sono merda quanti sono l'autosalto merda questo è perché mi hai distrutto la casa ma che cazzo sta dicendo è il bestiame eh dai allora oh forse l'uscita dove cazzo sono le altre robe Andrea giuro su dio che ti faccio esplodere casa giuro no non ci provare quanti sono no frappito dov'è è un'orda di zombie entra chiudi cazzo ok dai signori possiamo andare no 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 ok Andrea santo dio perché devi essere dai dormiamo 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 dai io sono a letto dai dormiamo ragazzi se no non passa più la notte dai che devo recuperare le mie cose santo dio dai cazzo siete veramente due ture di coglioni siete peggio degli altri ok bene andiamo a recuperare le mie cose guarda avrei voluto salvare cazzo sono le mie robe santo dio eh signori no aspetta un attimo adesso recupero le mie cose faccio l'altro calma eh che mi sta venendo ti sei preso anche il mio arco vabbè te lo regalo il mio arco stai ma affanculo va allora adesso mi riprendo il mio cazzo di stavo dicendo adesso mi riprendo mi riprendo mi riprendo il mio letto me lo setto lì e facciamo la fine eh della live dove cazzo è il letto ok va bene adesso devo rientrare là come cazzo faccio con la terra naturalmente scusate ragazzi vi rubo ancora un minuto ce l'ho fatta a suo apposta per non avere rotture di coglioni e voi mi rirompete pure si vedi che cazzo è sta terra nigerunda smoki no non abbiamo uno smoki con cui nigerunda iorare non ti preoccupare che in quel momento ce l'avevo allora settato lo spawn e vaffanculo esco e allora passiamo alla modalità gesù allora grazie a mille tutti quelli che sono passati grazie mille a Patches che ha donato e a tutti gli altri che hanno donato io ringrazio Zama Riccardo e basta cliccare sul letto ringrazio ai ragazzi che sono venuti in live e hanno giocato con me e mi hanno invitato nel loro server da Ricci è tutto buonasera buongiorno e buon pomeriggio da Ricci è tutto out a tutti Grazie.